Lo stanziamento di 3 milioni e 200 mila euro devoluto alle province per la manutenzione del sistema viario è una boccata d'ossigeno per la provincia terramana che considerati i danni causati dalle ultime alluvioni richiede particolare attenzione. Sono 3 milioni e 2 per tutte e quattro le province che saranno ripartite in relazione all'estensione della rete provinciale e anche ai flussi di traffico. Noi contiamo e abbiamo detto al Presidente Alfonso che questa sia una prima tranche di ulteriori somme per la manutenzione delle strade che effettivamente ha un grande bisogno. Io spero con questa tranche e l'altra di dare una sistemata dignitosa alle strade provinciali. Naturalmente non tutte, partiremo dalle priorità. Noi abbiamo anche la situazione delle strade come ci è stata lasciata dall'alluvione del 2011 e poi anche nel 2013 per cui le strade terramane sono dissestate ancora più delle altre quindi abbiamo chiesto una particolare attenzione della Regione Abruzzo. Tra l'altro fare manutenzione sulle strade significa anche risparmiare perché ormai non si contano più né i procedimenti penali a carico dei funzionari e né le richieste di risarcimento a carico della provincia.